Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 12.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05, Berlence, è in partenza dal binario 1. Il treno regionale 12.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05, Berlence, è in partenza dal binario 3.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05, Berlence, è in partenza dal binario 3.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05. Il treno regionale 12.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05, Berlence, è in partenza dal binario 3.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05, Berlence, è in partenza dal binario 3.505 di Treni d'Avia, delle ore 20.05. Il treno regionale 12.05, Berlence, è in artenza dal binario 3.50 5.02, Berlence, è in partenza dal binario 1.15, Berlice, è in partenza dal binario 3.50, Berlence, è in regionale 13.35, Berlence, superi buamente grazie di terno, 세계-abilita, delle ore 30.05, Berlence, è in partenza dal binario 3.50, Berlice, è in partenza dal binario 3.50, Berlence, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.